Oggi prepariamo insieme i calzoni fritti con pomodoro e mozzarella. Per prima cosa io ho messo il cucchiaio per impastare. Versiamo tutta l'acqua nel boccale. Mettiamo anche un po' di zucchero e quindi facciamo scaldare 2 minuti 37 gradi a velocità 2. Adesso togliamo il coperchio e mettiamo tutta la farina doppio zero. Deve essere 250 grammi e ancora 250 grammi di farina di grano duro. Io ho messo lievito secco questo mastro fornaio e quindi non occorre sciogliere. Adesso lavoriamo gli ingredienti 4 minuti a velocità 3. Questo robot non ha la modalità spiga. Mettiamo anche un po' di strutto. Se volete potete utilizzare anche l'olio. E per finire un po' di sale. Vi faccio vedere dal foro come sta lavorando. Questo è l'impasto finale. Bello morbido. Faccio lievitare e successivamente formo i calzoni. Li farcite con un po' di pomodoro. Io a casa avevo questo. Ma potete utilizzare benissimo anche la polpa di pomodoro. Naturalmente condita con gli aromi. Sale, pepe, origano. Mettiamo la mozzarella e sigilliamo molto bene. Si friggono in olio bollente. E quello che avete visto è il risultato finale. Aletrici 2 diczysta davvero. Alla rip contractinge. Riccio da front.